grazie 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 allora visto che qua siete dei gran vacanzieri no se magari la vacanza solo a gatteo non vi è bastata se magari prima ad andar via passate lì dove vi ho detto prima qui alla sinistra del palco alla vostra destra dove potete trovare i nostri cd con tutte le nostre canzoni i nostri grandi successi come ad un passo da te che avete ascoltato prima la non è bella voglio te io ci sarò occhi di ghiaccio e l'amore tutte queste nostre canzoni c'è anche un deplian che vuole informarvi che noi dal 5 al 12 di settembre andremo in calabria marina di sibari se avete voglia di passare una settimana con noi tutte le sere si balla si fa musica con l'orchestra bergamini ci sarà con noi anche claudio nanni una bella settimana tutta da passare magari voi quando andate via prendete sul deplian poi chissà che non vi venga a settembre questa voglia di fare ancora un'altra un'altra vacanza allora a questo punto invece prima di presentarvi i miei ragazzi perché è doveroso dedicargli un grande applauso vogliamo tornare ancora per un attimo a parlare di tradizione abbiamo ricordato secondo casadei raul casadei la tradizione bergamini ma noi come famiglia bergamini abbiamo un grande debole per ivano nicolucci anche perché insieme a mio padre negli anni settanta hanno costruito un percorso stupendo molti di voi si ricorderanno della vera romagna nicolucci e bergamini allora io vorrei invitare il nostro giuseppe bissoni a ricordare il maestro ivano nicolucci così con uno dei suoi più grandi successi un brano con una melodia incredibile dedicata veramente a tutti gli appassionati giuseppe bissoni con daniele a tutti gli appassionati giuseppe grazie a tutti 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 Grazie a tutti